Ciao fragoline, nuovo video, ho fatto un po' di shopping, un po' di acquisti c'è una novità di Garnier e poi ho preso diciamo qualcosina al mercatino in una bancarella e ho fatto un acquisto che sono talmente felice di averlo fatto che adesso se ve lo faccio vedere, secondo me, vi innamorate anche voi se vedete l'acquisto che ho fatto però l'acquisto più bello lo lascio per ultimo perché è una bomba e dopo tanti mesi sono riuscita ad acquistare quello che volevo ma credo che dal titolo si è visto, nell'anteprima ho messo una foto che non è quella perché sennò ovviamente non guardate il video per cui iniziamo, vorrei farvi vedere prima di tutto quello che ho preso alla bancarella però prima che mi dimenti vi ricordo di iscrivervi al mio canale attivando la campanella così non perdete neanche un video in cui escono sul mio canale lasciatemi un like se volete vi lascio il mio instagram sia qui che in tutti i video sotto che vedete e un commentino qua sotto cosa ne pensate sia di questi acquisti che di quello che vi farò vedere a fine video allora iniziamo questo è il sacchettone allora iniziamo allora il primo questo è questo che sono allora io li chiamo leggings ma in teoria questi sono dei fuso sono di cotone sono abbastanza diciamo un po' non dico pesanti ma leggermente perché calcolate che i leggings sono molto cioè ci sono quelli leggeri e ci sono quelli più pesanti questi qua sono praticamente fuso che è come se sono leggings in poche parole comunque è di cotone è praticamente tutto nero fatto così allora vi faccio vedere le cose indossate quelle ovviamente che posso e poi di fianco vi metto delle clip che ve le faccio vedere più da vicino comunque questo vabbè lo vedete indossato comunque ha l'elastico sopra è nero e ovviamente dato che mi servivano perché li ho rotti tutti questi quelli uso per il lavoro per cui sono comodissimi riesci a muoverti meglio e cioè io ho preso questi che è una inzelle c'è anche scritto qua adesso vedi di qua una inzelle comunque è made in italy non è cinese di solito io prendo anche le cose dai cinesi però quest'anno non lo so sono più roba italiana che cinese non so perché ma io di solito prendo tutto cinese per risparmiare per cui comunque ho preso questi qua che se non sbaglio 10 euro perché questi me li ha comprati mia amma dato che conosce questa ragazza che è una sua amica allora in poche parole ho preso questi poi ho preso due altre paia di leggings però sono uguali adesso le posso vedere sono due uguali uno è questo adesso con la luce sarà difficile farvele vedere però dato che qua è nuvoloso devo per forza usare la luce comunque sono questi sono fatti così ne ho presi due questo qua è sempre taglia XL 30% poliester e è della Gladys che lo fa praticamente la Raffaella Fico e sono così sono bellissimi anche questi mi stanno bene e ne ho due adesso ve li faccio vedere comunque due taia questo con l'etichetta e sono fatti così a forma di jeans finto però ha le tasche infatti quelle che avevo prima non ce le avevano ha le tasche che adoro cioè sono troppo belli ha queste tasche qui fatte così con l'elastico sopra dietro sono bellissimi perché hanno il taschino anzi hanno due tasche che puoi infilarci dentro qualcosa ed è bellissimo è un jeans scuro praticamente che giù è sempre semplice praticamente fatto così e c'è su di me mi stanno bene tanto vabbè li vedete indossati comunque questi costano 12 euro un paio 12 euro io ne ho presi due per cui e cioè sono bellissimi poi indossati sono belli sembrano piccoli però quando li indossi si allargano perché sono belli sia sotto che sopra vabbè forse sotto sono più strettini però è giusto perché i leggings sono fatti così adesso ne ho ordinati altri paia per il lavoro però neri poi vi farò vedere però questo è bellissimo perché adoro la forma adoro come è fatto questa è sempre una inzelle perché io il sotto porto una inzelle dato che è di più il sotto che il sopra comunque mi piacciono e sono troppo belli e dato che le ho rotti tutti e mi servivano meno male che in questa bancarella praticamente c'erano i leggings poi sempre in questa bancarella ho preso l'intimo che questo non ve la posso far vedere indossato perché se no youtube mi segnala e comunque è questa è la scatola allora questo è vela comfort imbottito senza ferretto io preferisco mettermi dei rigiseni senza ferretto leggermente imbottito anche se ce li ho però io preferirei leggermente imbottito questa è una taglia 6 6D o 6C non mi ricordo perché qua mi segno solo la 6 la sesta ed è bianco con il pizzo e ho preso solo anzi ci sono anche le mutande belle però così così chiedo anche di dare anche le mutande allora questo è il reggiseno in pizzo che è bellissimo quando l'ho visto è fatto così adesso sul bianco e bianco non so se lo vedete bene comunque è fatto così mi avvicino un po' non so se è tutto fatto in pizzo bello fatto così e leggermente imbottito senza ferretto e secondo me è comodo non l'ho ancora provato perché giustamente l'ho appena preso comunque è fatto così non so se se si vede ok comunque una sesta io faccio fatica a trovare la mia taglia il sopra perché non c'è come lo voglio io comunque vi faccio vedere che è la sesta e la marca è l'or mar infatti se per caso mi trovo bene con questa marca prenderò anche il nero perché c'è anche il nero per cui vediamo se mi trovo bene prenderò anche il nero e queste sono state le tre cose che ho preso poi passiamo alla novità che è uscita da poco adesso non so forse tre settimane fa però dato che avevo trovato su Amazon lo sconto alla fine con 13 euro mi sono presa della Garnier che hanno fatto un nuovo shampoo maschera e balsamo all'anguria e dato che mi sono trovata bene con tutte le altre che ho comprato e che ho provato che voi avete già visto che era la banana aloe vera e poi l'altro che non mi ricordo e per finire poteva mancare l'anguria che è la mia preferita l'anguria per cui ho preso su Amazon con 13 euro tutte e tre adesso vi faccio vedere anche l'altra se non mi cade niente tutte e tre io ve lo consiglio andate a prendere su Amazon che risparmiate perché se no se non sbaglio totale dovrebbe essere 17 qualcosa calcolate che solo la maschera questa qua praticamente 6 euro quasi 7 euro solo questa questi qua piccolini se non sbaglio sui 2-3 euro adesso mi ricordo bene il prezzo comunque con 13 euro in promozione risparmiate un casino allora e dato che volevo provare anche questa allora questo è lo shampoo praticamente è uguale sì sì questo è lo shampoo che adesso vediamo se riesco a farvelo vedere tanto vabbè lo vedete da vicino hanno un odore non vedo l'ora di provarli uno è questo e invece c'è il balsamo che io infatti vorrei provare anche questo è buonissimo vorrei provare tutte e tre insieme per vedere se va bene come come secondo me è una bomba perché avevo già provato anche gli altri per cui secondo me secondo me è buono come prodotto perché è 99% no 97% di ingredienti naturali senza silicone e cioè qui adesso allora dice con lo shampoo più la maschera praticamente allora è vegano poi è riciclabile non ha siliconi per un tocco naturale ai capelli mi sta già andando via la voce comunque questa è la novità che ha fatto Garnier io la proverò e poi vi farò sapere nei video dei prodotti finiti vorrei provare tutti insieme tutte e tre insieme e poi vi proverò uno per uno perché sono curiosa e ma credo che cioè mamma mia che odore cioè è buonissimo adesso non so se però io poi l'anguria ne vado pazza è il mio frutto preferito per cui secondo me non c'è niente da dire è il top sono troppo buoni sia come odore che come prodotti per cui se volete prendeteli perché secondo me non deludano come l'altra volta allora ok poi per finire la cosa più bella e acquisto top che io ho fatto adesso ve la faccio vedere che è la borsa fake di Chanel e dopo quando l'ho vista che mi è arrivata a casa sono rimasta bocca aperta perché è quasi uguale identica cioè proprio uguale adesso ve la faccio vedere ma è uguale identica a la borsa del Chanel l'unica cosa che cambia è il marchio cioè dentro non ha la scritta originale e non ha il cartellino però quando l'ho presa che l'ho trovata su Wish cioè chi ha visto il video che sono stata truffata su AliExpress quando ho provato a comprare la borsa di Chanel finta fake praticamente ho fatto quel video lì e quella borsa non mi è arrivata poi vabbè dopo un po' AliExpress mi ha rimborsato però il venditore non è stato onesto perché giustamente non mi è arrivata la borsa per cui sono stata un po' delusa poi ho provato su Wish perché ne ho trovata una quando mi è arrivata giù cioè adesso ve la faccio vedere allora vi lascio qua una clip come era praticamente sigillata la borsa sì di come era messa quando mi è arrivata la borsa impacchettata in poche parole questa era imballata così adesso vedete vi faccio vedere velocemente l'ho messa io per farvela vedere però tanto vedete la clip originale quando mi è arrivata non so quante volte lo vedo comunque allora vabbè qua c'è scritto black perché si vede un casino che è falsa però nessuno lo saprà tranne quelli che guardano questo video ma quando vado in giro con questa borsa secondo me nessuno saprà che è vero cioè che è falsa questa è la sacca che mi è arrivata con scritto Chanel Paris ovviamente non è l'originale e si vede già dall'inizio e invece la borsa originale che sembra originale è questa facciamo così ok allora dietro al taschino allora l'ho presa nera è in pelle dietro al taschino qua qui c'è il taschino è sia tracolla che normale poche parole e davanti è così cioè se voi la vedete sembra vero ovviamente c'è il marchio qua con scritto Chanel ma tanto poi da vicino lo vedete quelle vere di Chanel non hanno il marchio calcolate che una borsa di Chanel costa 3500 euro e io dato che non mi passo per mettere una borsa che costa così tanto alla fine ho trovato una che a me mi va bene anche che non sia originale l'importante è che sia quasi uguale identica a quella originale e quando l'ho vista cioè io mi sono innamorata perché è troppo bella è uguale uguale identica adesso vi faccio vedere anche dentro quando l'aprite è così qua c'è il taschino finto ah no il taschino è vero poi infatti sembrava io facevo così andando in giù ma invece è in su per cui ha il taschino con il marchio finto di Chanel dentro è spaziosa perché è fatta così c'è il taschino questa è la catenella che adesso vi faccio vedere qui ha una tasca bella grande dove puoi mettere le cose ha il cartellino infatti il cartellino non è originale perché vabbè ma si capisce qui quando l'aprite c'è scritto il marchio Chanel ma non credo che quelle vere hanno diciamo il marchio così comunque è così è rossa dentro e dentro c'è una tasca enorme dove puoi mettere le mattite le penne oppure altre due taschini adesso è difficile farvela vedere bene però dentro è fatta così che ha anche il bottoncino dove tu puoi chiuderla adesso non riesco a chiuderla e invece praticamente allora adesso non so quanto durerà la borsa però chi se ne frega tanto non è quella non so quanto l'ho ripetuto 300.000 volte comunque questo è il cartellino fatto così che qui è tutto in inglese per cui non lo so comunque il cartellino è fatta così nera con tipo una catena non so quanto durerà però spero che mi durerà puoi tenerla sia bassa che alta adesso è nuova per cui ci vuole un po' puoi tenerla sia così e sia adesso col cartellino non riesco a farla andare più in su comunque a tracolla fatta così c'è allora il prezzo l'ho pagata 41 euro più 10 euro di spedizione per cui in totale 50 euro perché è praticamente con la spedizione la vai a pagare 10 euro adesso wish ha cambiato tutto spedizione robe varie e allora alla fine comunque sono felice di averla presa di averla comprata e se volete prenderla anche voi scrivetemi in privato così vi lascio il il sito cioè vi lascio il sito è wish ma dato che ci sono tante borse così ma certi sono truffatori secondo me se volete il link scrivetemi in privato su instagram che poi almeno perché non mi piace mettere i link sotto nei video su youtube dato che non è una sponsorizzazione non sono pagata per cui preferirei non mettere i link vorrei prenderne altre due una la volevo prendere rosa è un altro è un altro colore che però non so devo ancora decidere però per il momento vedo se mi dura se è buona se ne vale la pena eccetera ve lo farò sapere tanto per chi è iscritto al canale e chi guarda i vlog lo sa per cui questo è stato il mio super acquisto dopo un bel po' di mesi meno male che ho trovato quella che volevo e niente questa allora volevo farla vedere in un vlog solo che poi ho detto è inutile sprecare un vlog per questi acquisti che poi alla fine secondo me è bello fare anche ogni tanto un video sullo shopping sugli acquisti per cui volevo fare diciamo questo video qua sullo shopping invece di metterlo nel vlog fatemi sapere cosa ne pensate della borsa se acquistate anche voi se volete acquistarla fatemelo sapere e fatemi sapere se avete provato già i prodotti della Garnier all'anguria detto questo spero che questo video non sia durato tanto perché parlo troppo e niente noi ci vediamo al prossimo video mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto io mi sto già impapinando detto questo è meglio che chiudo e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao